salve vorrei parlare un po del caso di Filippo Turetta e dell'ultimo femminicidio che tutti conosciamo e ne stiamo parlando all'infinito adesso si sentono dire tante cose su questo caso e io quello che mi sento di dire è che Filippo secondo me non ha ancora capito lui cosa ha fatto cosa commesso non si rende conto della gravità dalla sua affermazione ho ucciso la mia ex fidanzata sembra qualcosa di molto ridotto molto circostanziato non so come lui ha commesso qualcosa di molto grave ha commesso ha tolto prima di tutto una figlia a un padre poi ha tolto una sorella a due fratelli un fratello e una sorella poi hai tolto la vita a una futura mamma a una futura zia a una futura nonna quello che hai fatto è molto 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 grave non è solo la tua fidanzata la tua ex fidanzata e questo qui secondo me dovrebbe essere la prima la prima cosa su cui lui dovrebbe riflettere poi il resto viene dopo tutte le atrocità che ha commesso poi si vedrà ci sarà il processo però la prima intenzione è proprio questo io quando ho sentito quella frase ho ucciso la mia ex fidanzata mi sembrava una cosa molto molto limitata no riflettere su queste cose che sto dicendo io in questo momento perché sono fondamentale poi tutto il resto seguirà però partiamo da questo punto di vista anche non solo filippo e ci sono tante persone che commentano e che forse non hanno capito filippo cosa ha fatto una serata a tutti alla prossima